musica 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 grazie per migliorare vendi spettatori peperoncino e vai si viaggia raga per me è una cagata pazzesca tra poco mi uscirà il fuoco dalla bocca mi sa raga adesso non l'andate volete vedere proprio che mangia il peperoncino siete fissi vendi spettatori fissi facciamo questo spacchettamento del peperoncino bro il latte il latte non ce l'ho cazzo il latte non ce l'ho prendi il latte non ce l'ho il latte raga il latte lo prendete dalle dalle cosucce di mamma ha detto raga facciamo una cosa chiamo dei miei amici per mangiare questo peperoncino così magari ne faccio mangiare pure un alloro così facciamo un bel cocktail di peperoncino ci state che brutto ma che brutto non mi piace mi presento un mio amico ecco qua per voi andrea bella raga lui è andrea lui è molto forte su fortnite raga quindi dobbiamo fare una live stiamo a lui su fortnite prego seri ti accomodati andrea crea di pre per il sociale allora abbiamo un peperoncino abbiamo un nostro amico e vediamo adesso cosa facciamo 118 raga tutti a scrivere 118 in live tutti a scrivere 118 vuoi favorire? vuoi favorire? raga si unisce pure lui si mangerà un peperoncino assieme a me ci siamo siamo pronti al grande momento mangiamo questo peperoncino dopo andiamo nel server per giocare assieme qui abbiamo andrea ok raga contate fino a 3 e noi procediamo peperoncino in mano no l'acqua dopo l'acqua dopo ora l'acqua vai verso l'acqua mi ricordo il video di kendall in cui mangiavo i peperoncini ma questo è peggio perchè noi lo facciamo sul serio magari kendall mangiava peperoncini fasulli ci sei andrea? cin cin? aspetta un attimo 3 2 1 raga scrivete via raga scrivete via magnas via raga scrivete via nessuna pietà via scrivete via raga via oh mio dio ha brucia tutto l'ingoi oh mio dio brucia un bordello raga raga brucia ziaia ziaia porca puttana oh mio dio sto morendo compa' sto morendo compa' gente ricotta mannaggia miseria ce l'hai il latte? cazzo ahahahah apriamo la finestra raga prossimo peperoncini alla donazione ma perchè ci sono gli haters che si divertono e dicono ora ci mettono di like a bm si piange e non va più live e si ragazzi ci avete azzeccato prima ci giocavo che ero poliziozzo no? mannaggia mannaggia sono vivo sono vivo sono vivo sono vivo raga venite venite andiamo assieme andiamo assieme guardatelo con l'arco con l'arco con l'arco con l'arco con l'arco adesso andiamo nel nostro server porco schifo porco schifo ma perchè? ma perchè? eccola un bel bianco vediamo se lo prendo l'ho preso mannaggia l'ho preso raga bm screen bella jammy va bene sei qua bella jammy screen bella jammy